Sospiro di sollievo per Valfurva, da stamane è riaperta la strada provinciale 29 del Passo Gavia, che ieri era stata chiusa per una sensibile accelerazione del dissesto sul corpo frana del Ruinon, probabilmente innescata dalle piogge e dal rialzo delle temperature. Oggi infatti la sala operativa della protezione civile regionale ha segnalato il rientro della soglia radar di elevata criticità, quella prevista nello scenario più critico, scesa a livello di moderata criticità. Il movimento della frana, rilevato di circa 90 cm in un giorno, è notevolmente rallentato. La provincia di Sondrio ha potuto così emettere l'ordinanza di revoca della chiusura disposta ieri in base ai criteri della procedura di intervento stabilita dal piano di emergenza della frana del Ruinon. Il tratto della SP29 di circa 6 km tra le frazioni di Sant'Antonio e Santa Caterina Valfurva dunque è tornato transitabile, permettendo di collegare la località turistica al resto della Valtellina, mentre ieri la stessa era raggiungibile solo dal versante bresciano del Passo Gavia. Urge attivare al più presto, dice il vice sindaco di Valfurva Luca Bellotti, l'impianto semaforico collegato ad un sofisticato sistema radar per rilevare i movimenti franosi. L'installazione dovrebbe essere completata nella prima settimana di luglio.